Il progetto vero proprio di Folkest è stato sempre questo del decentramento culturale. Teniamo conto che noi l'abbiamo progettato partendo dal 79, 80, in quegli anni lì, in cui si scriveva ancora la cultura con la cappa di Cossiga, si diceva una volta, si scherzava. Da lì siamo partiti portando la musica, la cultura dove c'era la gente, non obbligando sempre la gente a arrivare nei grandi templi della cultura. Ci siamo andati così, ci siamo andati da fare per arrivare nelle ville, nei castelli, nei borghi rurali e abbinando per la prima volta anche cultura e turismo con un pubblico che aveva sicuramente un profilo alto, un profilo di grande attenzione e che quindi ci permetteva di legare tradizione, tradizione popolare, cultura, architettura, urbanistica e cibo buono come abbiamo in questa regione. Con la Scuola di Mosaico abbiamo spesso fatto delle iniziative comuni, anche hanno disegnato diversi manifesti per noi, sia gli elievi che i docenti della Scuola di Mosaico, hanno realizzato bozzetti in mosaico. Questa del mosaico è una cosa veramente straordinaria. Ma questa immagine del mosaico in sé e del nostro festival, che è un mosaico fatto dalle tessere di tutti questi vari gruppi che partecipano, di tutte queste varie culture che si toccano, si contaminano e si ritrovano insieme per un obiettivo comune che è la promozione della musica e della cultura, ma anche direi una cultura della pace, una cultura direi di un futuro che vorremmo cercare di consegnare alle prossime generazioni, un futuro che abbia prima di tutto rispetto per le persone, rispetto per quelli differenti da noi, ma contemporaneamente per le nostre radici. È un po' complicato, ma Folkest ha l'ambizione di voler essere anche tutto questo. Anche questo gemellaggio che abbiamo tra Folkest e il premio Parodi è sicuramente un motivo importante di scambio di esperienze reciproche, ma anche di promozione per tutti questi gruppi, perché lavorando insieme si lavora meglio. Grazie a tutti.